ma qua ha già la piene boccia un mazzaro dei colori da quando loro si sono exibiti qui a Foccipsi adesso tutti i miei clienti io voglio che i miei clienti musica musica adriana tua volta adriana ti ha detto a quante stagioni una quante elementi a quante volte che mi fai adriana ma quando hai visto i più quante elementi te ne chiedi proprio pazzia non capri musica 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 La magia non è solo non 10 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 Grazie a tutti.